Sala, cucina abitabile, due camere da letto, bagno finestrato con box doccia, due balconi, garage, cantina, appartamento al primo piano, il tutto a meno di 100.000 euro? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.